Ok, mettiamo questo bosco a soccuadro Cipollo, Lars, Gemmy, sei venuto a consegnare qualche pacchetto ai muschi? Steven, c'è la gemma! Cosa? È identica al mio disegno Avanti! Non hai nulla da temere, ti aiuteremo Adesso salta fra le mie braccia Il mio corpo a tutirà la tua caduta Sei tu mio padre? Cosa? No, no, non sono tuo padre Ma possiamo aiutarti a trovarlo se... No, non sta cercando tuo padre Io sta cercando solo mio padre Ho bisogno di trovare mio padre Ok, comunque noi ti aiuteremo Connie! Connie, aspetta, fa' attenzione Connie? Tu sei Connie? Bravissima! Sono Connie Io Connie Connie, amica Topazio! Ne ho trovata una! Ne ho trovata una! Ho trovato la... Steven? Connie! Un'altra gemma! Li... li ho presi tutti quanti? Lasciali andare! Connie! Non ci sono i miei amici! Ah... Guarda quanto si agitano questi organici Ridateli i miei amici! Non diamo retta a quello Steven Lui non è mio padre Perfetto, adesso ci manca solo mio padre e qui abbiamo finito Strano che abbiano disturbato un'acquamarina per questo lavoro È così semplice che avresti potuto occupartene anche tutto, pazzo Non portarteli via